...e che devo dire? Che so fare un poco di tutto e non trovo mai niente! Meglio, meglio così! Vedi, perché tu, bello bene, sei, come dire, non la tenente! Io tengo posto e sono addirittura sottotenente! Comunque, ma che ne dici stare a dire? Lei stia cercando da calmare un po'? Anemi, mamma mia! Pienseci tu! Fa calmare un po' a donna Vicenza! O sape, ma restate e stai ragionando al cassato! Ma che mandi? Sono l'anemi mia suocera! Uè, ma quando mai dici chiamate, mamma? Ma quando mai? Resto io mi sono sempre rifiutato! Cioè, pensi che è ad un giorno poco a stonore tutto qua a Stacoa, io? Eh, ma pure questo patasino, andavo con l'additto! Può piacere? È questione di vita o di morte! I creditori si sono asserragliati...